salve mi chiamo eric dubai e sono un flat earth a differenza di quello che avete sentito su di me dai principali media dal sistema di governo educativo ed in generale dalla società non sono né un idiota né uno senza cultura e nemmeno un fanatico religioso mi sono laureato all'università ho insegnato per sette anni in prestigiose università ho pubblicato sette libri e non seguo alcuna religione un tempo era un credente della terra rotante come voi infatti la sola differenza fra i credenti della palla che gira e di flat earth è che i flat earth hanno fatto le proprie ricerche ovviamente vi hanno raccontato l'opposto dove i flat earth sono degli incolti deficienti e che non tengono conto delle teorie della scienza moderna ma la realtà è che ogni flat earth è molto colto per quanto riguarda la fantasia della terra che ruota presentata dalla nasa insegnata a scuola ed accettata come fosse la verità del vangelo dalle masse ingenue nella realtà vedrete che i flat earth hanno molta più conoscenza della terra che gira su cui si suppone viviamo rispetto ai credenti stessi della terra che gira questo è perché tutti i flat earth hanno dimostrato a loro stessi se è vero o no che la terra è come predica la teoria della scienza moderna o l'astronomia scoprendo che non è così invece esistono centinaia di prove negli esperimenti scientifici che hanno dimostrato correttamente che la terra è un piano stazionario ma non avete mai sentito non sentirete mai parlare degli importanti esperimenti censurati dal controllo dei nostri media non avete mai sentito degli esperimenti mickelson mori mickelson gage sagna kentor od eri per esempio tutti questi hanno dimostrato che la terra non si muove non avete nemmeno mai sentito degli esperimenti aerobottom o di carpenter tutti hanno dimostrato che la terra è piana e che non ha alcuna curvatura invece mostrate ripetutamente le immagini costruite dalla nasa della terra che gira e degli astronauti a gravità zero vi hanno raccontato che gli oceani si curvano attorno e stanno fissi alla palla che gira grazie alla magica gravità di newton vi hanno raccontato di erastotene che ha misurato le ombre per provare la sfericità e la circunnavigazione è magellano di questa palla i flat earth sono ben consapevoli che le prove e le presunte evidenze che ci sono state fornite a riguardo alla terra che ruota sono fantasia la differenza è che abbiamo analizzato a fondo le ipotetiche prove ed abbiamo trovato dei buchi lampanti molto più grandi del budget annuale della nasa io personalmente ho smontato ogni ipotetica affermazione della terra che ruota nelle evidenze che potete trovare nel mio libro flat earth conspiracy ho composto inoltre 200 prove che la terra non è una palla rotante nel mio libro dallo stesso titolo non voglio reiterare qui quello che potete leggere liberamente online in dozzine di lingue non basta dire che non esiste una visione del modello del globo che ruota in grado di superare lo scrutinio critico tanto che ogni presunta prova proposta viene facilmente confutata la terra che ruota ed ogni argomento usato per difenderla è semplicemente pseudoscienza mascherata da verità le immagini di video presentati al pubblico dalla nasa e dalle altre agenzie spaziali governative sono vere come i film di hollywood e quelle scientifiche come fantascienza i fatti scientifici dall'altra parte confermano la terra piatta ad esempio è un fatto naturale che tutti i fluidi rimangono perfettamente a livello di impiano fin tanto non vengono in qualche modo disturbati una volta bloccati se vengono rilasciati tutti i liquidi si disperdono in tutte le direzioni senza ostacoli fin tanto non trovano il loro nuovo livello questa legge fisica sempre presente e mai distrutta è talmente affidabile che i costruttori usano le livelle ad acqua per mettere in piano tutte le loro costruzioni se osservate l'orizzonte del mare dall'alto di un pallone amatoriale o da un razzo che sia mai andato così in alto il livello dell'acqua rimane sempre completamente a livello e piatto se la terra fosse una palla rotante come afferma la nasa e l'astronomia moderna in qualche modo le masse oceaniche dovrebbero sfidare la fisica per curvarsi migliaia di miglia attorno ad una terra dalla forma di pera o di uno sferoide oblato in realtà sono state ripetute misurrezioni attraverso la storia fino ai tempi moderni dove sono stati usati laser livelli sestanti e luci per testare questa presunta curvatura della terra ed ogni volta è stato dimostrato che i nostri occhi dei nostri sensi ci dicono la verità semplicemente la terra non curva in basso otto piedi per miglio al quadrato come dettato dalla trigonometria sferica e dagli stessi calcoli della nasa per un globo terrestre di 24.900 miglia della circonferenza sull'equatore questo mito della curvatura esiste solo nelle lenti occhio di pesce dei filmati che fanno costantemente con le finte immagini grafiche computerizzate della terra che vengono costantemente diffuse ora caro credente della terra cruota c'è molto ancora da imparare molto da disimparare per comprendere a fondo questo inganno richiede molto più di pochi minuti sulla ricerca della terra piatta per superare tutta una vita intera di indottrinamento ma vi supplico di farlo provate voi stessi a verificare se la terra che ruota che ci hanno insegnato a credere fin dalla scuola dell'infanzia realmente vera parlo a nome di ogni flat earth dicendo esattamente quello che abbiamo fatto abbiamo fatto ricerche diligentemente migliorando in un modo in un altro per vedere se questo apparente piatto immobile piano sul quale ci troviamo si inclina oppure oscilla ruota rivoluziona se ha una forma pera o di uno sferoide oblato che sfreccia attorno al sole o se invece è tutto veramente come appare l'acqua rimane sempre a livello è piana l'orizzonte rimane sempre a livello è piano la terra non si muove esattamente come sembra il sole la luna le stelle girano tutte attorno a noi giusto come appare vi incoraggio per favore ad esplorare questo affascinante soggetto voi stessi per vedere altri documentari dei flat earth e le mie interviste è andata sul mio canale youtube o visitate international flat earth research society su ifers.123.st grazie dell'iscrizione all'iscrizione Grazie a tutti